Essere della Juve è avere, essere del Toro è essere. Loro hanno la società ricca, hanno i giocatori belli, luccicanti, splendenti, sfavillanti, uno stadio di proprietà bellissimo. Noi giochiamo in un campo in affitto, che oltretutto non affittiamo neanche per tutto l'anno, ma solo per le partite. Abbiamo un centro di allenamento per la prima squadra, che non è di proprietà, che è in affitto e che il Torino per costruirlo ha messo un ottavo del valore dell'immobile stesso. Abbiamo un centro per l'allenamento delle giovanili, che in teoria dovrebbe esserci da sei anni, invece da sei anni continuano ad esserci le erbacce. Non abbiamo un settore femminile, o perlomeno non ce l'abbiamo all'altezza che dovremmo avercelo. Non abbiamo la next generation, non abbiamo, non abbiamo, non abbiamo. E quindi compensiamo questo non avere con l'essere, cioè avere la certezza di essere la squadra della città, di essere la squadra che ha una storia, una tradizione di cui andare fieri in giro per il mondo. Tutti i derby danno delle emozioni, anche se poi uno le emozioni ce le ha prima. Io adesso vedo che il derby è molto meno sentito di una volta. Quando ero ragazzino io, il derby iniziava quando l'arbitro fischiava la fine della partita precedente al derby. Quindi c'era una settimana di derby vissuti intensamente. Ma non parlo solo allo stadio, parlo proprio per le vie della città. Ma incontravi i tuoi coetani, i compagni di scuola o così amici che magari erano dell'altra sponda. C'era proprio questo sentimento, ma anche da parte loro. Purtroppo è da quando, diciamo dal post-Amsterdam, quando c'è stato il crollo di tutte le certezze. L'anno dopo abbiamo vinto la Coppa Italia e poi siamo miseramente scivolati nel baratro. Di lì in avanti i tifosi della Juve non ci hanno più considerati i competitor, perché il loro derby è con l'Inter, non è con noi. E di conseguenza essere snobbati da parte loro, secondo me, ha tolto molto il fascino della sfida cittadina. Pronostico per stasera? Pronostico per stasera. Il cuore mi dice due. E poi se andiamo a vedere la realtà è più 1x, quindi giochiamoci sta tripla in maniera molto salomonica e va bene così. Lo vedo, come al solito, difficile, perché è vero che noi siamo in un momento effervescente, ma è altrettanto vero che abbiamo la brutta abitudine di risuscitare i morti. L'ottimismo è una componente fondamentale dell'essere Granata. Fossimo pessimisti, terremo per un'altra squadra. Però, insomma, l'avversario è di valore. Sicuramente se mettiamo a fianco le due rose, il valore dei giocatori, il Montengaggi, la differenza è tanta.